A seguire l'Upa Castelli Romani Messina, anche un indimenticato ex Antonio Bedio, come va, come prosegue la tua attività? Abbastanza bene, ho preso un anno sabbatico, vado in giro a vedere le partite, mi aggiorno costantemente, tutto nella norma. In estate avevi avuto anche un colloquio con la proprietà del Messina, poi l'accordo non è arrivato? Sì, io scesi a Messina un giorno e non ho avuto la fortuna e il piacere di parlare proprio con la proprietà. Parlai solo con Arturo Di Napoli ma non con nessun dirigente sinceramente e poi tornai a casa aspettando notizie. Comunque a prescindere da questo mi fece piacere essere contattato perché, come voi potete immaginare, nella mia carriera calcistica i tre anni a Messina sono stati i tre anni più belli della mia vita. Ripensando a te, ripensando al tuo Messina, viene un po' di nostalgia. C'era un altro seguito di pubblico, un altro interesse. Ora basta guardare un po' la cornice che caratterizza ad esempio le gare della Lupa Castelli Romani, un centinaio di spettatori, insomma, questa è una realtà particolare ma comunque è un altro calcio. È un altro calcio perché sono cambiate tante cose, purtroppo secondo me è cambiato anche il modo di approcciarsi dei giocatori stessi nei confronti della tifoseria. Noi in quei tre anni siamo stati bravi e fortunati a vincere due campionati e a salvarci in Serie B, ma secondo me il merito più grosso fu quello di avere un legame particolare con la città. Noi frequentavamo la città tranquillamente sia nel bene che nel male, avevamo anche noi dei momenti difficili perché comunque, come tutte le squadre, però alla fine l'apporto dei tifosi fu secondo me determinante, soprattutto il secondo anno che vincemmo la C1, dopo che perdemmo l'ultima partita a Vellino, l'anno di Serie B che ci salvamo con enormi sacrifici, quindi sono cambiate tante cose, però anche oggi Rieti Messina non è molto vicino. Vedere un centinaio di tifosi vuol dire che c'è sempre grosso affetto nei confronti della squadra. Qual è la tua ricetta per rilanciare questa Lega Pro? L'impressione, ripensando ancora una volta al tuo Messina, che sia calato e di molto anche il livello tecnico? Quella sicuramente. Il fatto di imporre determinate regole per far giocare i giovani, che io sono totalmente contrario. perché, per la mia esperienza da ex giocatore, non c'erano regole una volta e i giovani quelli bravi, se erano bravi, giocavano lo stesso. e c'era molta più qualità. Adesso hanno messo dei paletti, delle normative che fanno sì di creare solamente delle false illusioni, perché alcuni di questi qua l'anno prossimo non è che non giocheranno in Lega Pro, non giocano neanche se le dì, perché non sono neanche fuori quota e faranno fatica a rimanere nel mondo del calcio. Quindi c'è da cambiare soprattutto, secondo me, dei regolamenti. Poi la qualità si è peggiorata, però tutto parte anche da queste normative.